In questo oratorio ha iniziato a giocare da bambina e qui domani mattina riceverà l'ultimo saluto Giulia Ituma, la diciottenne pallavolista morta per la caduta dal sesto piano dell'hotel di Istanbul dove si trovava per una partita internazionale della sua squadra, la Igor Volley di Novara. Una tragedia, un suicidio secondo le prime ricostruzioni con ancora tanti punti da chiarire che ha scosso e commosso gli abitanti del quartiere. Mia nipotina che gioca a pallavolo e stamattina quasi piangevo e dici ma perché, perché? E' dispiaciuto tantissimo, comunque una ragazza giovane, nel pieno della carriera e dispiace proprio. E' una tragedia. In questa zona la famiglia di Yulia, di origine nigeriana, ha vissuto fino a qualche anno fa. Nella polisportiva parrocchiale la ragazzina è iniziato a giocare a pallavolo e proprio per questo la sua famiglia, che da tempo non risiede più qui, ha chiesto di poter celebrare in questa chiesa, dedicata a San Filippo Neri, i funerali della giovane. E' difficile, però la speranza è anche un dono da chiedere. E i familiari sono persone di fede. Li ho conosciuti, per quanto in modo limitato, però in questi giorni e mi hanno offerto anche una bella testimonianza di fede vera, autentica e semplice, per cui insieme pregheremo anche per chiedere proprio per noi il dono della speranza. I funerali non saranno in forma privata, ma all'interno della chiesa saranno vietate riprese tv e fotografie. Intanto a Novara la squadra di Giulia ha ripreso gli allenamenti a porte chiuse, ma per decisione dei responsabili nessun tesserato potrà rilasciare dichiarazioni o interviste.